Durante la sua vita Caio Giulio Cesare ebbe sotto di lui decine di migliaia, se non centinaia di migliaia fra legionari e ausiliari. Le sue campagne sono diventate famose per la loro buona riuscita, ma quanto sono costate a livello umano? Beh, si è calcolato che durante le guerre galliche Cesare abbia portato alla morte più o meno un milione di persone, fra romani e galli. Una cifra spaventosa per i numeri dell'epoca, ma Cesare era disposto a pagarla, come disse all'inizio della sua campagna, meglio essere il primo in un villaggio di barbari che il secondo a Roma. Sotto di lui combatteranno alcuni fra i migliori generali che la storia di Roma abbia conosciuto e due di loro sono destinati alla grandezza. Di chi stiamo parlando? Scrivetecelo nei commenti e lasciate un mi piace.